Oggi andiamo a vedere una lezione del 26 febbraio 1963 Si intitola Il suo nome La Bibbia non è un prodotto degli esseri umani, non è costituita dall'uomo È la storia della scoperta dell'uomo da parte della rivelazione di Dio, del mutevole nome di Dio E aumenta il suo valore per l'uomo In Genesi 4, 26 ci viene detto che nacque un bambino di nome Enosh, nato da Sara E gli uomini cominciarono a invocare il nome del Signore Questa è la prima volta che l'uomo cominciò a invocare il nome del Signore La parola Enosh significa uomo mortale Indica qualcosa che è fragile, qualcosa che semplicemente si consuma e scompare L'uomo mortale comincia a chiedere della sua origine Perché sono qui? Qual è la causa dei fenomeni della vita? La prossima volta che lo vediamo è nel 32esimo capitolo della Genesi E la notte in cui ci viene detto Un uomo chiamato Giacobbe, significa il soppiantatore Lotto con Dio E quando arrivò l'alba Dio gli disse Lasciami partire Ed egli disse Non ti lascerò partire finché non mi avrai benedetto E Dio lo benedisse Poi disse a Dio Qual è il tuo nome? E Dio rispose Perché mi chiedi il mio nome? Non vuole dirglielo Così Giacobbe chiamò il punto in cui Dio lo toccò Peniel Che significa il volto di Dio Perché disse Ho visto Dio faccia a faccia E la mia vita si è conservata Poi al sorgere del sole Giacobbe Vacilò perché il punto in cui Dio lo aveva toccato Si contrasse Era il tendine della sua coscia Questo è ciò che l'uomo A quel livello di coscienza Credeva essere il potere creativo dell'universo Oggi 1963 Tu e io siamo testimoni delle cose più fantastiche Che l'uomo abbia concepito Missili nello spazio Che possono raggiungere il sole Queste macchine IBM Il cervello è elettronico Ma niente che l'uomo abbia mai concepito O portato alla nascita Può essere paragonato a un bambino Niente in questo mondo Che l'uomo possa concepire È paragonabile al cervello di un bambino Perché il bambino ha concepito lo strumento Che ora ci spaventa Abbiamo una bomba Una bomba nucleare Ma questo non può essere Paragonato al cervello Che l'ha concepita Non importa Cosa ne facciamo Leggete Genesi 32 Dove un tempo l'uomo pensava Che l'atto sessuale fosse Dio L'atto stesso di produrre La cosa più sensibile del mondo È la forma di un bambino Non c'è una parte del mondo In cui qualcuno non abbia Eretto immagini Falliche In adorazione di Dio Ora passiamo al libro dell'Esodo Dove il nome cambia Perché non era ancora stato rivellato Gli uomini cominciarono a invocare Il nome del Signore Ma non sapevano cosa invocare Pensavano che fosse il sesso Leggete Esodo 3 13,15 Come Dio si rivelò a Mosè E Mosè disse al Signore Quando verrò al popolo di Israele Dirò loro Il Signore vostro Dio Mi ha mandato da voi Ed essi mi chiederanno Qual è il suo nome? Il Signore rispose Io sono colui che sono Le parole sono ogni forma del verbo essere Io sono quello che sono Io sono quello che sarò Dite loro Io sono mi ha mandato da voi Così quando verrete al popolo di Israele Dite loro che il Dio di vostro padre Il Dio di Abramo Il Dio di Isacco E il Dio di Giacobbe Mi ha mandato a voi E questo è il mio nome per sempre Io sono Nessun altro E questo vi condurrà dal deserto Alla terra promessa Questa fu la seconda grande rivelazione Del nome di Dio L'uomo pensava che fosse l'atto creativo Chi potrebbe negare che nulla in questo mondo Che l'uomo abbia mai creato È paragonabile alla generazione di un bambino Nessuno E deve risalire all'orgigine del lato E tutto d'un tratto È uscito da questo organismo fantastico E poi arriva una rivelazione di altro tipo Il cui nome è Io sono Poi arriva la rivelazione finale Che troviamo nel Nuovo Testamento E porta qualcosa di completamente diverso Che l'uomo non ha visto prima E lì rivela il nome come padre Padre Santo Custodiscili nel tuo nome che mi hai dato Affinché siano uno come tu e io siamo uno E lì diede loro il nome che era il suo nome E il nome era padre La rivelazione finale di Dio all'uomo Riguardo a chi è veramente suo padre Così in molti e vari modi Dio ha parlato anticamente ai nostri padri Per mezzo dei profeti Ma in questi ultimi giorni ha parlato a noi Per mezzo di un figlio Se ha parlato per mezzo di un figlio Allora è un padre E così Dio parla all'uomo nei suoi ultimi giorni Attraverso suo figlio E il figlio rivela a quell'uomo che lui è il padre di quel figlio E allora e solo allora l'uomo sa chi è veramente Ma fino a quel giorno prendete la seconda rivelazione del nome di Dio Che è io sono e usatelo saggiamente Potete usarlo per qualsiasi cosa nel mondo Vi viene detto che se bestemmiate contro il suo nome Dovete essere lapidati a morte Come ci viene detto in Levitico 24,16 Chiunque bestemmia contro il nome io sono E tra parentesi e il nome è già stato rivellato in Levitico 3 Esodo 2 Ha rivelato il nome Lapidatelo a morte Uno che era nato da una donna ebrea Che conosceva un uomo egiziano Maledisse il nome di Dio E loro ascoltarono per vedere cosa Dio avrebbe detto di fare a un tale uomo Lapidarlo Lapidare non significa prendere delle pietre e lanciarle contro di lui Come farà la gente Le pietre sono i fatti letterali della vita Come potrei bestemmiare contro il nome di Dio? Con Dio tutto è possibile Perciò il suo nome è Io sono E io oso dire Io sono indesiderato Io sono povero Io sono malato Io sono completamente ignorato in questo mondo Ebbene questa è una bestemmia contro Dio Perché non è quello che voglio veramente in questo mondo O per chiunque altro io ami Quindi qui sono io che bestemmio contro Dio Mi viene detto in Giovanni 8 Se non credete che io sono lui Morirete nei vostri peccati Peccato è mancare il bersaglio Questo è il significato della parola peccato Mancare il bersaglio Non centrare il bersaglio Non arrivare al punto Se non credo di essere l'uomo che voglio essere Rimango dove sono in quel momento Rimango in quella limitazione Così muoio mancando il segno Quindi l'essere che sei veramente Se la seconda rivelazione è vera E io posso dirti che è vera Che il suo nome è Io sono Non significa che tu adori qualcosa all'esterno Quando dici Io sono È il giorno in cui lo contrate davvero Come se il concetto Io sono Fosse dentro di voi Sentite chi siete veramente Ora ecco una storia vera Che ho sentito sabato scorso Non sono un membro della Tour Club Ma ci vado occasionalmente Quando sono invitato E qualcuno mi porta Così sabato scorso Io e mia moglie siamo stati al Tour Club Mi è stato presentato questo ometto Che sedeva proprio una fila più giù Strano Un tipo strano E mi hanno raccontato la sua storia È venuto qui senza un soldo dal Kentucky Come abbia avuto i soldi necessari Per comprare un piccolo appezzamento di terra Non lo so Non mi è stato detto Ma ha comprato un piccolo appezzamento di terra Nella contea di Ventura Voleva avere il petrolio Quindi dormiva sulla terra stessa Non costruì una piccola baraca Dormiva proprio sulla terra Con la testa a terra Sentiva arrivare il petrolio Sentiva l'odore del petrolio E a volte tornava a casa la mattina alle 6 E sua moglie era sconvolta Cosa ti è successo? Stavo dormendo sulla terra Per portare il petrolio dentro Oggi l'uomo direi che ha 10 anni più di me Cioè 68 anni Quasi 70 Non ha problemi finanziari Ha regalato fortune Vale più di 6 milioni Così mi ha detto lui stesso Ma ora ha un altro problema E ha dimenticato il nome di Dio Il suo problema attuale è la noia Va all'ipodromo 5 giorni alla settimana Dal martedì al sabato Se scende di 10.000 dollari Non è un problema Se scende di 20.000 Non è un problema Ma è annoiato E non sta bene fisicamente E non si ricorda com'è Ha portato il petrolio all'esistenza Con il nome di Dio Quando ha messo la testa su quella terra E ha cominciato ad ascoltare Chi stava ascoltando? Se tu gli dicessi Cosa stai facendo? Sono alla ricerca del petrolio Ecco cosa direbbe Tu hai chiamato il nome di Dio Io sono odore di olio Io sono colui che sente l'olio Ecco cosa direbbe Ha portato tutto dentro Ma non ricorda il nome di Dio Ora sta dicendo Sono indisposto Sta bestemmiando il nome di Dio Vi viene detto L'uomo che bestemmia il nome di Dio Lapidatelo La pietra sta mostrando i fatti della vita Non ti senti bene, vero? Quindi vedi tutte le cose del mondo Che non vanno in lui E gli lo dice Queste sono le pietre Ma lui le ha dimenticate E quelli che lo circondano Non lo sanno Una volta ha usato saggiamente Il nome di Dio E ha portato ricchezze in questo mondo Potrebbe portare la salute in questo mondo Se usasse il nome di Dio È il mio nome per sempre di sé Dio è in esodo 3 Ma io rivellerò un nome ancora più grande Quando l'uomo comincerà a risvegliarsi E il nome finale è padre E così mostraci il padre E sarei soddisfatto Sono stato così a lungo con voi E ancora non mi conoscete E ancora non mi conoscete Filippo Chi ha visto me ha visto il padre Come puoi allora dire Mostraci il padre Ecco Io vi dico Io sono il padre E nessuno sa di essere il padre Padre Santo Custodiscili nel tuo nome Che tu mi hai dato Affinché siano uno Come noi siamo uno Non c'è modo in questo mondo In cui io e te sappiamo di essere uno Se non attraverso Quest'ultimo atto di Dio Che si rivela Quando ti dai il suo ultimo nome Che è padre Io sono il padre Questo lo so E tu sarai il padre Dello stesso unigenito figlio di Dio E quando lo vedrai Come io l'ho visto E tu lo vedrai E sarai suo padre Allora tu e io saremo Una cosa sola Perché non posso essere Il padre di un figlio E non essere te E questa è la rivelazione finale Di Dio all'uomo Su questo piano Quindi In molti e vari modi Dio ha parlato anticamente Ai nostri padri Per mezzo dei profeti Ma in questi ultimi giorni Ha parlato a noi Per mezzo di un figlio E il figlio rivela La natura del padre Nessuno conosce il padre Se non il figlio E chiunque A cui il figlio Scelga di rivelarlo Fino a quel giorno Usate la seconda rivelazione Che è per sempre il suo nome E usatelo saggiamente Come ci viene detto nel Salmo 9 Decimo verso Quelli che conoscono il tuo nome Confidano in te Se si conosce il nome Il nome è l'individuo stesso Il nome di Dio E io sono E questo è Dio Quindi stasera Se conoscete il nome Credeteci Confidate nel suo nome E ascolta come se ascoltassi Ciò che Sentiresti Se tu fossi l'uomo Che vorresti essere Confida nel suo nome Ed egli Non ti abbandonerà mai Qui Il nome cambia Mentre l'uomo Comincia a rivellarsi Come Dio La Rivellazione Finale Non conosco Capitolo più grande Del 17 Di Giovanni Dove si rivela E si dona all'uomo Padre Santo Glorificami Con te stesso Non vuole altra gloria E Dio stesso Che si dona all'uomo Perché questo è il suo scopo E quando riesce Nel suo scopo L'uomo a cui si è donato E Dio E Dio è Padre La rivelazione finale Pertanto Ci deve essere un figlio Dov'è il bambino Se io sono un padre? Ed ecco che il bambino Viene alla luce Ed è Davide L'unico figlio Generato da Dio Davide Tu sei mio figlio Oggi ti ho generato Questo è nascosto Nell'uomo Fino a quest'ultimo momento In cui il velo è sollevato E la paternità È rivelata All'uomo Attraverso la natura Del figlio Lì vedi Davide E Davide ti dice Chi sei Tu sei suo padre Lui ti chiama padre E chiamandoti padre Allora si compie il Salmo 89 Ho trovato Davide Ho trovato Davide E il suo grido A me Tu sei mio padre Mio Dio È la roccia della mia salvezza E tu lo vedi E tuttavia non c'è alcun cambiamento Nel tuo io sono Il sé che diventa suo padre È lo stesso sé che era prima Solo un sé molto più grande Include la paternità Ma lo stesso senso di io sono Non avete cambiato la vostra distinta individualità Ma ora è allargata Per includere La paternità è quel padre Dio E raccontate al mondo Nella speranza di poterlo rendere chiaro come lo è per voi Che lo accettiate o lo rifiutiate È vero E deve venire il giorno Quel tempo In cui ogni individuo Avrà la stessa esperienza E passerà attraverso tutto questo Fino a quel giorno Usa saggiamente il suo nome Come ci è stato rivellato Attraverso il suo profeta Mosè Nel terzo capitolo dell'Esodo Usatelo per la ricchezza La salute O il riconoscimento Ma non bestemmiate mai Contro il nome di Dio Se non credete che io sono lui Morirete nei vostri peccati Così ci viene detto Essi presero delle pietre Per scagliarle contro di lui Perché li aveva offesi Perché aveva bestemmiato il nome di Dio Perché affermò Io sono Dio Questa era una bestemmia per loro E presero delle pietre Per scagliarle contro di lui Quali pietre? Gli dissero che conoscevano suo padre Conoscevano la sua madre terrena I suoi fratelli e le sue sorelle E li nominarono Dissero Conosco tuo padre e tua madre Giuseppe e Maria E nominarono i quattro fratelli Implicarono più sorelle E poi cominciarono a mostrargli i fatti della vita E i fatti contraddicevano la sua affermazione Perciò lo lapidarono con i fatti della vita Queste erano le pietre Poi scomparve in mezzo loro Non poteva discutere con quella mente Perché sapevano esattamente le sue condizioni E lui stava dicendo loro Se accoglierete ciò che vi dico Vi darò il potere di diventare figli di Dio Che non sono nati dal sangue Né dalla volontà della carne Né dalla volontà dell'uomo Ma da Dio Questo versetto è qualcosa di completamente diverso Nella fisiologia greca Nascere dal sangue Significava che il seme dell'uomo Si mescolava con il sangue della donna E da questa unione Nasceva un bambino Nascere dalla volontà della carne E per impulso sessuale Non è nato così Nascere dall'uomo E avere una discendenza umana Non è nato così È nato da Dio Qualcosa di completamente diverso Dove l'uomo improvvisamente Si risveglia dentro di sé Ed esce dal proprio cranio Per scoprire Che per tutto il tempo Ha dormito Poi leggerete queste parole In Apocalisse 1,18 Ed egli si credeva vivo Ed era morto Qui un uomo era morto E per tutto il tempo Ha creduto di essere vivo L'intero vasto mondo Il sonno è così profondo Così profondo Che non sa che sta dormendo Il sonno è così profondo Che è paragonato spiritualmente A un uomo morto Poi un giorno Dio si risveglia nell'uomo E l'uomo si risveglia per la prima volta Per rendersi conto Che per tutti i secoli È stato morto Ma non lo sapeva Ma ora è risorto Per la misericordia di Dio Credeva di dormire Mentre pensava di essere sveglio Eppure era morto Nel frattempo Tu che ti credi vivo Prova questo principio Con l'uso del nome di Dio Non ti deluderà Te lo prometto Per la prima cosa Tenete a mente questo Potete avere ricchezze stasera E averle opportunamente assicurate Mobili, gioielli, pellice Ma le avete lasciate Quando siete venuti qui stasera Le avete lasciate ovunque abbiate Queste ricchezze esterne Potete avere azioni e obbligazioni Possono essere assicurate Ma le avete lasciate Dovunque siano Forse nei cavo O nelle vostre case Proprio qui Circa due anni fa Ho lasciato questa piattaforma E ho guardato fuori Ho visto queste enormi fiamme E tutte queste belle case Che bruciavano Erano tutte abbandonate Ovunque fossero le persone Tutte consumate In pochi istanti Ma una cosa Non puoi lasciare Alle spalle E la porti sempre con te Dopo aver trovato il nome Puoi andare in qualche posto Dove puoi lasciare alle spalle Il tuo io sono? Dove puoi andare In questo mondo E lasciare dietro di te L'unico potere del mondo Io sono Qualora che conoscono il tuo nome Ripongono la loro fiducia in te Non nella banca Non nella loro posizione sociale Finanziaria Intellettuale O in qualsiasi altra posizione Ripongono la loro fiducia in te Chi sei? Io sono Così tutti quelli che sono venuti qui stasera Hanno portato quel nome con loro Quando ve ne andrete da qui Lo porterete con voi Forse non sapete di averlo portato con voi Potete avere un tesoro E non sapete di averlo Se avessi un miliardo di dollari depositati in banca Ma non lo sapessi Potrei morire di fame per mancanza di un dollaro Eppure potrei firmare un assegno se sapessi di averlo E lo ritirerei per il mio bisogno terreno Non puoi lasciarti alle spalle il nome di Dio Egli ha messo se stesso in te Il tuo stesso essere Il tuo proprio io sono Questo è Dio E poiché è Dio Non bestemmiare contro il nome Usalo con saggezza Usalo con amore E ti dico Cosa stai sentendo? E voi mi dite Sto sentendo così e così O sto pensando così e così Bene Fate in modo che ciò che sentite Ciò che pensate Sia in armonia con il vostro più alto ideale Perché lo tirerai fuori Proprio come quell'uomo ha tirato fuori il suo petrolio Da questo piccolo pezzo di terra E oggi vale milioni Sarete in grado di usarlo saggiamente attraverso i vostri giorni terreni E forse in questa incarnazione vi sarà rivellato quello finale Ma solo Dio sa quando rivela quello finale Io posso parlare e parlarvene Ma non posso sollevare il sipario per voi Solo il figlio stesso può rivelarvi il padre Io posso dirti Tu sarai il padre Questo lo so Ma non ho il potere di strappare Quella tenda E mostrarti Davide Allora qui faremo un piccolo appunto per farvi capire Che cosa intende quando dice Non posso strappare quella tenda Sta parlando del velo dell'oblio Lo sapete che la nostra mente è vellata Ma che il velo si sta assottigliando sempre di più Quindi quello che sta dicendo è questo Lui e solo lui ti rivellerà come padre Nessuno sa chi è il figlio Se non colui al quale figlio sceglie di rivellarlo Ma io vi dirò Un giorno lui strapperà quella cortina Dalla mente E starà davanti a voi E vi chiamerà padre Voi saprete esattamente chi è Non ci sarà alcun dubbio nella vostra mente State guardando il vostro unico figlio generato Non generato da nessuna donna in questo mondo Generato dal tuo meraviglioso essere Dalla tua mente Ed è Davide E sarà proprio come viene descritto nel libro di Samuele Senza dubbio Non posso dirvi il brivido che vi aspetta quando accadrà Sei così eccitato che non riesci a pensare ad altro Puoi annoiare i tuoi amici Puoi annoiare tutti quelli che incontri Perché non riesci a pensare ad altro che a questo enorme evento che ti è successo Questa cosa celeste che ha avuto l'ogo Puoi essere un uomo solo Un uomo che non ha mai conosciuto una donna in questo mondo Ma improvvisamente sei un padre E sei un padre nel vero senso della parola Allora saprai che Ehi Non è nato dal sangue Né dalla volontà della carne Né dalla volontà dell'uomo Ma da Dio E ti chiamerà padre E tu sai che Dio è suo padre Ti dice esattamente chi sei Poi devi camminare sulla terra per gli anni rimanenti Chiuso fuori perché stai ancora indossando l'abito di carne E sebbene tu sia ora erede di un presente Di una promessa che si è già adempiuta Non puoi ancora condividerla a quegli altri Così che non puoi diventare effettivamente o pienamente realizzata in te Finché non ti toglierai la veste per l'ultima volta E allora sei uno con la schiera celeste Ognuno è destinato Non puoi vantartene Non puoi canticchiare Perché non te lo sei guadagnato Era tutto nel piano di Dio fin dall'inizio Colui che ha iniziato un'opera buona in voi In quel momento la porta a compimento Nel giorno di Gesù Cristo E Gesù Cristo è Dio Padre Quindi se Gesù Cristo è Dio Padre E Davide lo chiama Signore Tu chi sei? Non sei allora Gesù Cristo? Allora realizzi le parole Non ti rendi conto che Gesù Cristo è in te? A meno che naturalmente tu non sia inadempiente Spero che vi rendiate conto che non abbiamo fallito nel nostro sforzo Alla fine leggerete le parole E tutto scomparve E c'era solo Gesù Mosè era presente Elia era presente Tutti vedevano la gloria di Dio E quando tutto si placò C'era solo Gesù Perché al nome di Gesù Cristo Ogni ginocchio si piegherà E ogni lingua confesserà Che Egli è il Signore Gloria di Dio Padre E' solo Gesù E Lui è un figlio E sta condividendo suo figlio con voi Non camminando per strada con te come un amico Ma come tuo figlio Lui dà se stesso a ogni essere del mondo E non c'è modo di provare Che Lui effettivamente ha dato quel dono di sé a te Se non come Davide Il suo unigenito figlio come tuo figlio La Bibbia in miniatura è in Giovanni 3.10 E Dio ha tanto amato il mondo Chi ha dato il suo unigenito figlio La gente pensa che abbia dato il suo unigenito figlio E che il suo nome sia Gesù Cristo No Gesù Cristo per sua stessa confessione Dio Padre Voi mi vedete Filippo Eppure non mi conoscete Chi ha visto me ha visto il Padre Come puoi dunque dire Mostraci il Padre Quindi il figlio dato Non poteva essere Quell'essere che si chiamava Padre E il Padre è Gesù Cristo Chi lo chiamava Padre? Davide Così fece la domanda Nessuno gli la fece Egli disse Io sono il Padre Allora dov'è il bambino? Allora ha posto la domanda Che cosa pensate di Cristo? Ed essi risposero Il figlio di Davide Allora perché Davide nello spirito lo chiama Signore? Se Davide lo chiama Signore Come può essere figlio di Davide? E nessuno fece altre domande Davide nello spirito lo chiama Adonai Una parola usata da ogni bambino Quando si riferisce a suo padre Ogni bambino parlava di suo padre come Adonai Tradotto come mio Signore Wow questo è molto bello Allora non so se avete seguito la legge dell'uno Comunque questa entità Quando concludeva ogni sessione Chiudeva con questa parola Adonai Tradotto come mio Signore Così Davide lo chiamava mio padre Così vi dice Chi è e chi è Davide rispetto a se stesso Così Davide chiamerà ogni essere di questo mondo mio padre E poiché Dio è uno E il suo nome è uno E a quel nome ogni ginocchio deve inchinarsi Tu sei destinato a sapere di essere Cristo Gesù O Dio padre Ma finché non ti sarà rivelato Usa il suo nome come è rivelato attraverso il suo profeta Mosè E quando andrai da loro Di loro che io sono Mi ha mandato da voi Guidali fuori dal deserto verso la luce per mezzo del mio nome Quando puoi condurre te stesso oggi Non importa dove ti trovi Se sei ora disorientato e sei indesiderato Come pensi di essere O disoccupato Come potresti essere Conduci te stesso da questi stati di aridità A stati di fruizione Uno stato fecondo nel nome Assumi semplicemente Io sono E lo chiami Lo ascolti Lo annusi Lo vedi al meglio delle tue capacità E nella misura in cui rimani fedele A ciò che stai immaginando E ascoltando Lo esteriorizzerai effettivamente nel tuo mondo Non giudicarlo prima di provarlo Allora io qui farei un piccolo appunto Che cosa ci dice qui In questo passaggio dove ci dice Assumi semplicemente Io sono e lo chiami Cioè Tutto quello che desideriamo Diciamo Io sono Ricco Ok Io sono prospero E quindi Quando dici questa cosa Quando chiami questo Io sono Che cosa Lo chiami Lo ascolti Lo annusi Lo vedi al meglio delle tue capacità E nella misura in cui rimani fedele A ciò che stai immaginando E ascoltando Lo esteriorizzerai effettivamente nel tuo mondo Quindi noi dobbiamo usare I cinque sensi Nella nostra immaginazione I cinque sensi immaginari Quindi immaginiamo di toccare Immaginiamo di avere Immaginiamo di essere Immaginiamo di ascoltare Ok Quello che ci sta dicendo qua Ora Se ciò che ho detto Questa notte Offende Se in conflitto Con ciò che Credevate Quando siete venuti qui Di nuovo Torno alla scrittura Ed ecco Egli li offesi Allora Lo vendettero Per trenta pezzi D'argento Lasciatemi Tornare Al libro Del Levitico Qui ci viene detto Se un buio Incorna uno schiavo Maschio o femmina Allora il proprietario Del buio Deve pagare Al proprietario Dello schiavo Trenta pezzi D'argento E poi il buio Deve essere lapidato E il simbolo Di Cristo E quello di un buio Se la dottrina Cristiana Offende Bene Allora Ti è incornato Con qualsiasi cosa Abbia da dire E ora Avendolo incornato Lo schiavo Sarà censurato Deve essere venduto Per trenta pezzi D'argento Quindi Si adempie sempre La scrittura La parola Sarà sempre adempiuta Il prototipo di Gesù Il Cristo Era Giuseppe E fu venduto Per venti pezzi D'argento Venti Significa Aspettativa Dell'usa Il trenta E la perfezione Divina Riducilo A Un tre E il tre Ancora associato Alla resurrezione Il terzo Il terzo giorno La terra Resuscitò Dagli abissi Quindi qui Se dovessi Offendervi Con quello Che dico Allora Il bue Il bue deve essere Nella sua carica Di presidente I mattoni Stanno arrivando Dappertutto Quello che ha Promesso Nella sua campagna Per ottenere L'ufficio E quello che ha Consegnato E per il conflitto Tra ciò che Ha promesso E ciò che ha Mantenuto Fino Ad ora Si potrebbero Lanciare Tutti i mattoni Del mondo Contro di lui E lui Ne è pienamente Consapevole Potete Lanciarlo Al papa Lanciarlo Alla regina D'inghilterra Lanciarlo A qualsiasi persona In questo mondo Perché Non realizzano La loro ambizione Ti ho preso Nel mio segreto E ti ho detto La mia ambizione E tu come amico Sai che Non la Realizzata E tu mi lanci Tutte le pietre Del mondo E mi ricordi Quello che ti ho detto Contro Quello che ho realizzato Questo vale Per ogni essere Al mondo Tuttavia Che tu li realizzi O no Torna indietro E applica Questo principio Per la realizzazione Dei tuoi sogni Posso dirvi Nel mio caso Per quanto piccolo Sia stato E' stato tutto Quando sono stato Fedele all'uso Del nome Di Dio Quando ho osato Assumere Che io sono Ciò Che al momento La ragione Nega E i miei sensi Lo negano E sono rimasto Fedele a esso Allora L'ho Invariabilmente Realizzato Ci sono stati Innumerevoli Volte In cui Non sono stato Fedele Sono andato Per inerzia Come tutti noi Andiamo per inerzia Dopo un po' Poi Siamo scossi All'improvviso E dobbiamo Tornare All'uso Del nome E così Quelli che conoscono Il tuo nome Ripongono La loro fiducia In te Non in qualcosa Al di fuori di te E il tuo nome Io sono E il tuo nome Per sempre E per sempre Quindi Metti La tua fiducia Nel nome di Dio Uscendo da questa sera Con la convinzione Che tu sei già L'uomo La donna Che vorresti essere E vedi il mondo Come lo vedresti Se fosse vero E nella misura In cui Rimanete fedeli A questo presupposto In quella misura Lo esteriorizzerete E lo raccoglierete Come frutto In questo mondo Ora entriamo Nel silenzio Io mi fermo qui E vi aspetto domani Grazie Ciao a tutti Ciao